oggi 12 ottobre del 14 sono esattamente a 650 giorni da quella che è la mia previsione il mio exit poll rispetto alla durata della mia vita se l'ex poll ossia quella valutazione indiziaria fatta da me è esatta mi restano 650 giorni da oggi fino al 26 di luglio del 2016 ma poiché 50 giorni prima scade quel termine che in quel libro dell'apocalisse rivela a capitolo 12 versetto 6 che maria dopo che fu rapito il figlio trovò rifugio in un deserto in cui dio le aveva trovato un rifugio e vi sarebbe rimasta 1260 giorni ecco questi 1260 giorni che poi sono nei confronti del 26 di luglio del 2016 che terminano il giorno 2 di luglio del 2016 sono esattamente no chiedo scusa il 6 luglio il 6 luglio dista 20 giorni prima e bisogna togliere al 6 altri due giorni per di divenire 22 perché poi 22 22 sono 44 unità pari a 45 ecco andiamo al 4 di giugno in cui ora la distanza se non ho fatto male i calcoli da oggi a quel giorno lì riguarda esattamente 600 giorni 600 giorni è il percorso assoluto dato davanti e dietro destra sinistra sopra sotto che vale 6 nella quantità 100 dunque oggi comincia l'ultimo percorso totale pieno per andare alla fine di quel periodo di sacrificio in questo deserto in cui dio aveva preparato un rifugio mancano ripeto 600 giorni se avrò sbagliato qualche calcolo e non sarà oggi siamo lì quindi siamo in prossimità almeno se non è proprio oggi 600 a questo periodo che indica proprio un valore intero e non a caso io proprio questa mattina mi sono confessato proprio per auspicare che almeno quest'ultimo percorso della mia vita io lo possa fare nel modo più limpido e puro che sia possibile il rapporto tra me e la chiesa è un rapporto che è proprio come apparve nel preciso momento in cui io venni al mondo il 25 gennaio del 1938 a felitto in via pomerio al numero 76 76 già allude a tutto il percorso 10 del 66 uguale romano nella stanza appena si entra lì di questa casa proprio esiste lì all'inizio un grandissimo segno di che cosa accade in quella abitazione lì e ve lo mostro ecco c'è questo affresco che vi mostra un incoronato re della croce il naso e gli occhi vedete sono proprio schematizzati in una croce e è il re della croce e questo segno è proprio lì affrescato nel soffitto appena si entra nell'ingresso di questa casa in cui al primo piano poi io il 25 gennaio nacqui durante una grandiosa aurora boreale che fu indicata da lucia di fatima come quel segno di cui le aveva parlato la madonna dicendole quando in una notte tu vedrai una grande luce in cielo andare da oriente a occidente ecco quello sarà il segno della imminente della dell'imminente castigo di dio infatti lucia di fatima ricondusse poi a quello che accadde sei giorni dopo alla fine del gennaio del 1938 quella comunicazione data da adolf hitler l'anno successivo quando raccontò che si era deciso a fare guerra al mondo quella che poi sarebbe diventata la seconda guerra mondiale alla fine del gennaio del 1938 ma tutto poteva supporre lucia di fatima tranne che il segno dell'imminente castigo di dio fosse proprio quel dio che si incarnava in un uomo che poi sarebbe stato castigato in tutta la sua vita proprio nel modo previsto dal profeta isaia quando riferendosi nelle sue previsioni all'avvento del messia disse e noi lo abbiamo giudicato castigato da dio ma egli è venuto per farsi carico di tutti i nostri peccati e se voi chiedete in che modo sia accaduto in me il modo è assai semplice solo quello che vi dico io toglie di mezzo il carico di tutti i peccati e lo attribuisce totalmente ad un disegno di dio che si svolge annullandosi e annullando ogni potestà dell'uomo e della natura ma consentendo l'interpretazione libera di ogni spirito che si fa carico di questo disegno che torna all'origine come un libro che dalla profondità dello spazio venga in avanti e l'uomo veda facendolo suo nel verso proprio uguale contrario che dal davanti va a vedersi fino all'ultima pagina del libro valutandola poi come la pagina più avanzata nel tempo la prima e in effetti è la prima perché in questa risalita verso l'alto di una gocciolina che evapora dal grande mare quando questa gocciolina arriva nel punto più alto che esiste in cielo è da quel punto lì in cui tutte quante le goccioline della pioggia che vanno a formare il mare cominciano il loro percorso vero partendo proprio da quel punto più in alto nel cielo vanno a formare il grande mare nel verso che gesù disse a nicodemo sarebbe stato il verso dello spirito qui vedete in basso a sinistra la casa in cui io nacqui e alla metà di quella casa vedete il portone di via pomerio numero 76 è una casa che è dominata dalla grande mole di una chiesa cattolica la quale sorge sulla roccia proprio a individuare la perfetta sudditanza che quel dio venuto in me a caricarsi del peccato e a toglierlo di mezzo si sarebbe presentato proprio sottomesso alla chiesa cattolica costruita sulla roccia di pietro ecco vedete nella foto in basso a sinistra il portone della casa in cui io nacqui e a destra le rocce su cui sorge la chiesa imponente che avete visto prima proprio una chiesa cattolica edificata su pietro sulla roccia e io nato in questa casa che c'è qui messo in soggezione nei confronti della chiesa cattolica proprio come uno che deve stare lì sottomesso al grande ingombro che avrebbe avuto questa chiesa questa chiesa di felitto è intitolata dedicata proprio alla mamma di dio alla madonna a maria santissima nel segno della mia sottomissione piena intera io proprio oggi mi sono confessato proprio per avvalermi di tutto quello che gesù ha costruito con quella chiesa messa sulla roccia ossia su quel pietro tu sei la roccia e sulla tua roccia io edificherò la mia chiesa eccola l'avete vista la chiesa sulla cui roccia vera e propria è stata costruita questa struttura che avrebbe totalmente dominato il ritorno di cristo in questo mondo perché in esso gesù ritornato nella gloria del padre suo sarebbe ritornato nella vera potenza nella vera onnipotenza che è quella che si esplica non quando la potenza e la onnipotenza si esercitano perché se chi è onnipotente esercita questa onnipotenza in un certo senso la pone in atto e la vanifica il solo modo autentico per essere onnipotente davvero è essere onnipotente e rinunciare alla propria onnipotenza mettersi a servizio di chi onnipotente non è e deve ricevere tutto per puro e assoluto dono un dono che chi lo dà non lo dà per riceverne qualcosa un puro dono gratuito da parte di dio proprio allo stesso modo con cui un autore dona ai personaggi della sua opera tutto il mondo descritto nell'opera e i pensieri le parole e le opere dei personaggi i personaggi ricevono per intero tutto da chi è veramente onnipotente rispetto a quell'opera e chi è veramente onnipotente rispetto a quell'opera pone se stesso a servizio di quell'opera però poiché l'uomo non riesce a capire esattamente il senso della onnipotenza nella estrema e assoluta impotenza assunta in un servizio non è in grado di vedere in quello che è successo in me un possibile ritorno di gesù nella onnipotenza nella maggior gloria del padre suo perché l'uomo che crede che una cosa per esistere debba esistere così come è e non in modo esattamente uguale contrario seguita a commettere lo stesso errore già compiuto ai tempi di cristo si aspettavano un glorioso avvento del messia come un trionfatore e invece si videro arrivare il figlio di un falegname tanto che quando questo figlio del falegname disse io sono il pane disceso dal cielo quei 72 che aveva inviati si scandalizzarono eppure avendo viste tutte le opere fatte da gesù e fatte da essi stessi quando erano stati inviati esattamente in 72 ed erano tornati tutti convinti e contenti proprio dei miracoli che facevano nel nome di gesù quando sentono gesù dire io sono il pane disceso dal cielo e se non vi ciberete del mio sangue della mia carne non entrerete e non avete parte con me non furono capaci di capire che in un mondo così crudele come questo in cui non è possibile all'essere umano vivere senza divorare altra vita ci sono oggi coloro che si sentono puri perché non mangiano carne non si alimentano della vita e si credono puri perché si sostengono con vegetali ma costoro sono semplicemente portati a capire il sacrificio di chi più o meno assomigli all'animale umano e a non capire l'identico sacrificio di un vegetale che vive in quel modo allora chi è così compassionevole verso l'animale non lo è verso l'animale o la vita dell'animale lo è verso di sé al quale l'animale assomiglia di più di quanto assomigli un carciofo la vita umana è crudele per come sembra se non si alimenta della vita altrui l'uomo non può vivere e allora ecco perché gesù stesso dice dovrete mangiare e bere la mia carne e il mio sangue perché la carne e il sangue di cristo è proprio tutto ciò che sta alla origine della vita nella sua totalità indipendentemente dal fatto che assomigli più o meno all'uomo ecco ma quando i discepoli quei 72 sentono dire che gesù è questo sacrificio che giustifica poi la vita dell'uomo che richiede analogo sacrificio alla vita per esistere e non arrivano a capire proprio nulla ecco sono proprio nel segno di quello che sto dicendo io in questi giorni quando vi sto dicendo che è l'inverso di 72 ossia un settantaduesimo quello che rivela il giusto porsi di un ente che sia trino come tre per tre per tre perché mentre esiste come 27 solo se esiste anche come il suo inverso 72 esiste nel 27 più 72 uguale 99 che sono le 100 unità assolute rese unitarie solo nelle 99 ecco non arrivare a capire questo importa poi coinvolge poi che alcuni seguendo me che faccio capire l'importanza di un settantaduesimo è la stessa importanza che gesù dava a ciascuno di quei 72 ma siamo in un mondo in cui tutto questo non si capisce e quei 72 lì proprio messi di fronte alla verità non furono in grado di riconoscerla e ancora una volta messi di fronte alla stessa verità che io vi dico è accaduta in me nessuno è in grado di riconoscerla perché si aspettano il solito arrivo della onnipotenza che si presenti nella onnipotenza e non nella estrema impotenza stavolta di un figlio del maestro e della maestra nemmeno se questo maestro si chiama luigi amodeo che è il nome che scaturisce se si considera genesi 25 da lui ossia il pronome che indica dio quando non è egli soggetto ma si parla sempre di lui tutto va a lui noi adoriamo lui o lui con lui per lui quando noi consideriamo proprio dio con un pronome ossia qualcosa che faccia le veci del nome si chiama lui e se vengono dopo di lui giacobbe come secondo che però fa il trino ed è già e proprio quel pronome di esaù che ha perso il primato ha perso la sua condizione trina e dunque gli rimane solo il pronome ossia quel modè che è la lettura inversa di edom uguale il rosso per cui lui giacobbe rimanda a luigi amodeo o uguale 13 e il 13 aggiunto all'88 diviso in due in luigi e amodeo 5 e 5 più la o che è 11 e 11 e 13 e come luigi amodeo diventa 101 ossia proprio la totalità del disegno quando una linea è vista sempre nella verità del suo quadrato come il teorema di pitagora giustamente indica quando si tratta di quei triangoli rettangoli in cui i due lati giacciano proprio sui piani ortogonali partano dello stesso punto uno usi il piano verticale l'altro il piano orizzontale e la congiungente l'ipotenusa non dipende dalla somma dei due lati ma dalla radice quadrata dell'ipotenusa che è uguale all'area costruita sui quadrati dei due cateti dunque tutto dipende sempre dal quadrato nel valore unitario per la condizione che esiste in linea c'è sempre da considerare un piano progettuale e non solo una linea progettuale ma tutto questo io lo evidenzio lo racconto presento la verità che si salva mostro tutti gli indizi che esistano e oggi vi ho mostrato proprio questi della mia dipendenza totale dal disegno voluto da dio di un venire qui proprio nel rispetto sacrosanto di quanto consegnato e assegnato a gesù cristo e tu sei pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa e guarda che era proprio la chiesa di fronte a casa mia edificata sulla roccia e nei confronti della quale la mia casa lì è in una condizione di assoluta sottomissione tutto è talmente indicato in tutto ma è troppo grande la vostra attesa che alla fine del tempo il ritorno di Gesù avvenisse nella onnipotenza come se la prima volta si fosse sbagliato assumendo l'impotenza questo errore l'uomo lo fa sempre crede che la potenza di dio in questo mondo stia nella potenza e invece la potenza di dio in questo mondo sta proprio in quello zero in cui ogni quantità n di questo mondo elevata a zero sta nella unità assoluta di tutto l'insieme ma tutto questo si svincola dai numeri assunti dalla base proprio grazie e solo a quello zero che è quella dimensione la sola che esista in tutti i numeri che moltiplicando sì per tutti gli altri numeri nessuno escluso li piega e conforma tutti quanti a se stesso perché solo zero per n che conferma zero ecco il vero valore in questo mondo è il nulla che esista in questo mondo è la piena trascendenza dalla dimensione di questo mondo bisogna uscire dalla dimensione di questo mondo trascenderlo per poter risalire alla vera dimensione del padre ma voi volete tutti quanti rimanere sempre ostinatamente in questo mondo e pensate che quello che è detto dalla chiesa cattolica che dio si è fatto come noi per farci come lui sia un come lui reso esso pure schiavo di questo mondo no l'uomo si fa come dio solo se trascende dal disegno ossia dall'opera di dio e va al piano esistenziale proprio di dio se l'uomo non compie questo grande sforzo di trascendenza da questo mondo reale e non sceglie egli pure di azzerarsi in questo mondo di abbattere quel suo sacco costituito dal personaggio tanto da sganciarsi nel suo spirito dal personaggio che gli è dato da animare e ricongiungersi a dio come l'anima di dio se l'uomo non fa questo e non ritorna in cielo proprio dicendo un bel no è a questo mondo reale affermando che è visto certamente ma è un mondo negativo da negare solo se tu neghi questo mondo che è negativo solo allora dirai un bel sì a dio perché il no del no è sì e dunque cari amici dio è venuto qui per farsi negare tanto che negato in questo mondo negativo voi tutti scoprirete che lo avrete affermato in assolutezza totale